Ben ritrovati, questa sera parliamo di politica nella prima parte con il senatore Matteo Renzi e poi nella seconda parte affronteremo il tema del conflitto Russia-Ucraina e le parole del Papa che hanno sollevato tanto clamore e un dibattito. Cominciamo però dalla politica, le elezioni in Abruzzo hanno visto un calo di forze come i 5 Stelle e la Lega e una vitalità del centro politico. Allora cominciamo da lì con il nostro Augusto Cantelmi da Montecitorio. Ma io spero, ho detto la democrazia cristiana, ma tutti mettono l'inno della democrazia cristiana a un bianco fiore che è quando non mettono per me una grande emozione. Riscatto dei moderati, questa voglia di centro, l'avvertita anche lei oppure è solo un caso? No, non l'ho avvertita proprio così forte, però penso che nell'inconscio di questo paese ci sia. Il centro è fondamentale nel centro-destra. Il centro-destra-sinistra penso che ci siano categorie, posso dirle onestamente, oggi molto superate. C'erano delle teorie politiche che nel passato dicevano che si vince al centro, hanno dimostrato quelle teorie che poi non è così. Si vince, forse quando si è radicali con le proprie idee perché i cittadini lo capiscono. Si vince al centro-campo, diciamo. Beh sì, le partite si vincono sempre al centro-campo, questo è risaputo da tutti. Al centro-campo ci sono i genietti che fanno girare il gioco. Tartone Renzi, si sente un po' il centrocampista pronto a ritornare in campo dalla panchina? Diciamo che Galliani di calcio ci capisce, se dice che si vince al centro vuol dire che è così. In realtà penso che sì, oggi nello schieramento politico che c'è ci sarebbe bisogno di centro. Vediamo se riusciamo a costruirlo. Ma la estremizzazione della destra e la estremizzazione della sinistra, secondo me, non fanno bene all'Italia. Vediamo questo cartello dell'Istituto Piepoli che dimostra però come questo campo largo, Benedetto, vedete, soffre un po'. Salvatore Merlo, su questi dati che ragionamento ti viene di fare? No, viene di fare che è assolutamente vero. Io non so se lo dobbiamo chiamare centro, se lo dobbiamo chiamare polo, laico, liberale. Certo è che c'è stato un momento in Italia in cui sembrava che chi la sparava più grossa vinceva le elezioni. Se un insegnamento, forse un segnale, dobbiamo coglierlo dall'Abruzzo, è che c'è... Pensate, forse Italia che prende il 14%, è semplicemente incredibile. C'è un partito che ha perso il suo grande leader carismatico, che sembrava fondarsi e realizzarsi e condensarsi soltanto intorno alla figura di Silvio Berlusconi, prende il 14%. Significa che esiste quell'elettorato. D'altro canto si era anche segnalato alle politiche, perché quando l'onorevole Renzi e Carlo Calenda si sono presentati insieme alle politiche, hanno preso l'8%, che non so perché, poi magari ce lo spiegherà l'onorevole Renzi, il senatore Renzi, perché l'hanno considerato un risultato non buono. A me è sembrato sin da subito un risultato eccellente, da cui si chissà dove si sarebbe potuti arrivare se non fossero così, se non avessero litigato. Ha parlato di Forza Italia, ma Francesca Rascale alla Leapolda ha detto, Ferlusconi aveva detto che Renzi era, non dico il suo erede, ma comunque uno dei più bravi. Non è che il tagliano deve essere preoccupato? Mettiamola così, secondo me i dati delle regionali lasciano un po' il tempo che trovano. Noi stiamo discutendo di una regione importantissima come l'Abruzzo, anche la Sardegna, i numeri sono quelli che sono, dove il voto per le regionali cambia molto anche a seconda dei portatori delle preferenze. E guardate che questo tema già alle prossime europee cambierà, perché alle europee si vota con il sistema proporzionale e si vota in due giorni in cui, secondo me, si giocherà il destino dell'Europa. Dunque, a mio giudizio, la domanda di centro c'è. Forza Italia è il voto sicuro dentro la coalizione di destra? Perché più la Meloni va a fare la sovranista, più Salvini fa il pazzerello, è normale che uno come Tajani, che dice poco, e io mi permetto di dire dice poco per non dire dice nulla, è evidente che viene apprezzato. Da chi? Dal voto, dicevano i sondaggisti, il voto rifugio. Però parliamoci chiaro, qui serve un ragionamento sulle questioni del centro, sui valori del centro. Allora, tasse. La destra dice condoni, la sinistra dice patrimoniale. Il centro è la fatturazione elettronica, la riduzione dell'evasione, il ceto medio, sicurezza. La destra dice gli immigrati hanno tutti i torti. La sinistra dice è colpa della mancanza di buonismo. Per me la verità è che bisogna dire al centro legalità, legge e ordine. Ma questo vale per tutti, vale per Merlo, vale per Lenzi, vale per uno che viene da Scandicci come per uno che viene dal Burundi. Questi temi sono i temi fondamentali, in più c'è un tema di cui non parla nessuno, direttore, che è il ceto medio. Cioè qui stiamo a parlare del salario minimo, dei problemi minimi, tutte cose giustissime. Ma qui c'è un dramma, le famiglie che ci seguono da casa. Le famiglie non arrivano più alla fine del mese. Io quando sono diventato premier la prima cosa che ho fatto è gli 80 euro. Oggi gli 80 euro non basterebbero più. Perché hai una situazione di aumento dei costi, dell'inflazione, delle questioni reali della vita. Chi ha un figlio si rende conto che gnava più ad arrivare alla fine del mese. Siccome questo è lo scenario vero nel quale ci muoviamo, il centro per me non è una formula politica, ma è l'esigenza di stare accanto alle persone, virgolette, normali. Di questo non parla più nessuno. Se riusciamo a vincere l'Europee è perché parliamo di questo. L'Europee. Allora, io voglio aiuto. Cosa dicono i sondaggi rispetto all'Europee e anche rispetto al senatore Renzi? Allora, questa settimana noi registriamo una crescita che però è tutta all'interno delle coalizioni. Cioè nel centro-destra crescono la Lega e Forza Italia, è ferma Fratelli Italia, forse anche per conseguenza delle ultime settimane che hanno messo più al centro in particolare Forza Italia. Come si diceva, anche nel centro-sinistra c'è una piccola crescita del Partito Democratico e poi c'è quest'area formata da almeno tre partiti liberali, centristi, che hanno però quella vocazione, tutti vicini al 4%. Questa settimana perde mezzo puntazione, lo guadagna più Europa, Italia Viva tocca il 4% e da un po' che noi lo vediamo stabile in quella dimensione, in quella direzione, naturalmente ballano tutti sul 4% che, come sappiamo, è la linea decisiva. E infatti è anche un focus proprio su Renzi. E sì, l'abbiamo fatto perché noi misuriamo ogni settimana il consenso nei confronti di Matteo Renzi, come degli altri leader del Paese. Questa settimana Renzi cresce di 3 punti percentuali di fiducia, arriva al 14%, ma la leadership di Matteo Renzi ha una caratteristica specifica. Noi chiediamo agli elettori, tu, a prescindere da quello che voti, cosa sei di sinistra, di centro-sinistra, di centro, di centro-destra o di destra? Un 10% ci dice io sono di centro, non di centro-sinistra o centro-destra. Tra questi Matteo Renzi è il leader preferito e raccoglie il 59% dei consensi. Nessuno raccoglie questo livello di fiducia in quel target. Elementi di ottimismo, però poi al centro ci sono vari competitori. Questo è il problema. Io ho un problema grande che devo avere l'onestà intellettuale di mettere sul tavolo. In questi anni sono stato, sicuramente come tutti, ho fatto degli errori, più di tutti, ma sono stato oggetto di una campagna di distruzione dell'immagine che mi porta oggi ad avere, veniva fatto notare prima, un grado di consenso basso in generale, il 14%, se ho visto bene. Lei è stato più alto della storia degli ultimi 25 anni con il 60% di fiducia. Io ho avuto un consenso enorme. E poi un crollo. Quando il risultato che abbiamo fatto noi, esattamente dieci anni fa, l'europeo non l'ha fatto nessuno nella storia repubblicana tranne De Gasperi e Fanfani, che sono due leader a cui non possiamo nemmeno essere degni di essere paragonati. Cosa è successo a un certo punto? La distruzione del consenso è derivata sicuramente da alcuni errori, e chi non fa non falla, ma anche e soprattutto da una campagna di comunicazione che deriva dagli scandali giudiziari. Consip, Open, Tempa Rossa, il dossieraggio, la Leopolda, ora me ne sono dimenticato, ma ce ne sono sicuramente degli altri. Queste cose oggi, giorno dopo giorno, stanno venendo fuori come realtà false. Consip in questione. E di questi giorni la sentenza di assoluzione per l'otti, suo padre, per tante persone di Consip, e la sentenza di condanna per i carabinieri accusati di aver tramato contro di me. Allora, è evidente che io devo recuperare un po' di consenso. I dati positivi sono quelli che venivano ricordati. C'è bisogno di centro, c'è una domanda per il centro. Noi siamo usciti oggi, anzi ieri, con delle affissioni al centro. Noi vogliamo occupare questo spazio. Però non può essere il centro uno spazio che sta con i sovranisti stile Meloni. Cioè, il centro non può stare con Le Pen, Orban e Vox. Non può stare nemmeno con Conte, Melanchon e la sinistra di Podemos. Quindi il centro all'europea non può essere Tajani e non può essere il PD. Merlo? Vorrei chiedere al senatore Renzi, è tramontata evidentemente l'ipotesi di un rapporto organico tra lei e Carlo Calenda e più Europa, e questo è evidente. Tuttavia, dopo le europee, se per caso si affacciasse sul proscenio politico un nuovo federatore, non so, il sindaco di Milano Sala, si potrebbe ricominciare a parlare di ricostruire quella cosa che pure era arrivata, ripeto, all'8% alle politiche? Allora, così rispondo anche alla domanda di Merlo di prima che me ne ero scordata. Perché l'avete considerato un insuccesso? Io l'ho considerato un successo subito, altri hanno detto volevamo di più. Però la vedo così, questa distruzione del terzo polo ha un nome e un cognome, che è quello di Carlo Calenda. Io non ho niente contro Calenda, perché se avessi qualcosa... L'ho fatto ministro, l'ho fatto viceministro, l'ho fatto ambasciatore, l'ho sostenuto come candidato a sindaco a Roma e l'ho sostenuto come presidente del terzo polo. E anche come parlamentare europeo la volta scorsa. Quindi non c'ho niente contro di lui. Lui ha scelto di distruggere il terzo polo prima e di non fare la lista unitaria oggi. Sono due scelte legittime, perché non è che gliel'ha ordinato il dottore di andare insieme. Ma nel momento in cui lui ha scelto questa strada di distruzione globale, è evidente che perde la capacità di essere un federatore. Chi può essere il federatore? Non lo è Calenda? Non lo sono io? Merlo avanza la candidatura di Sala. È un'ottima ipotesi come tante altre, perché non c'è soltanto Beppe Sala, ce ne sono tante. Magari c'è una donna, magari c'è un amministratore come Sala o un parlamentare. Vedremo. Quello che è certo è questa idea di sparare contro quello più vicino, è un atteggiamento sbagliato. Perché nel momento in cui tu hai una cornice internazionale, voi ne parlerete dopo, di tensioni tra Cina e Stati Uniti, Russia e Ucraina. Hamas che massacra la vita degli ostaggi in Israele. Una polveriera globale che ha in Africa delle questioni di cui non parla nessuno. Di Bella è molto più bravo di me, ma tutto il tema della Wagner, delle materie prime cinesi, delle dittature e democrazie africane. Tutti questi temi qui richiedono un'Europa forte. Se qualcuno mette i veti anziché prendere i voti, è evidente che almeno è chiaro chi è che ha rotto questo giocattolino. Perché ha rotto il giocattolino del terzo polo chi oggi non vuole fare la lista. Ha parlato di Europa, ma ha molto colpito il suo attacco a von der Leyen. Lei ha sentito per caso i colleghi di Renew Europe. Cosa pensa Macron? Quello che pensa Macron va chiesto al Presidente della Repubblica Francese. Io non faccio il suo portavoce. Io la vedo così. Ursula von der Leyen non è stata all'altezza della guida della Commissione europea in tre questioni fondamentali. Il primo, il dossier internazionale. La sua posizione è stata molto ideale su Twitter. Ma se tu non lavori per la difesa unica europea e non metti in moto una diplomazia degna di questo nome, non sei credibile. L'Europa non c'è. L'Europa funziona su Twitter dove staremo con questi, staremo con gli altri, ma poi nella sostanza, nello dibattito, non c'è una presenza di Ursula. Non c'è sull'ambiente. Le aziende che ci seguono da casa devono sapere che se l'Europa ha scelto il furore ideologico sull'ambiente, sul Green Deal, è perché Ursula von der Leyen ha pensato di lucrare consenso su questo. Non funziona. Abbiamo distrutto pezzi della nostra economia dando porzioni del mercato a cinesi e indiani. Cinesi e indiani che in Cina e in India inquinano di più. E siccome il pianeta è uno, paradossalmente abbiamo indebolito l'economia e abbiamo distrutto l'ambiente. Terzo punto su cui sono molto deluso da von der Leyen è la questione Orban e riforme istituzionali. E su questo anche il Parlamento europeo l'ha criticata. Dunque io ho scelto questa posizione. Domenica alla Leopolda ho detto chiaro che se farò il parlamentare europeo non voterò Ursula von der Leyen. Altri hanno seguito, in particolar modo dentro Renew si sono espressi contro Ursula il commissario Breton. che non è banale e i rumeni. Adesso visto che l'Eliseo ha fatto uscire una nota dicendo ma no Ursula von der Leyen è brava. Io con tutto il rispetto per Macron e per gli altri se c'è Ursula von der Leyen voto contro. Che mettano i popolari, che mettano gente più brava. Vuole un nome? Mario Draghi. Draghi per me va bene dappertutto, quindi come si dice, siamo d'accordissimo. Ma se dovessi dirle un nome le direi, se vuole un popolare, alla guida della commissione. C'è il presidente greco, il primo ministro greco, Minzo Takis. È fortissimo, è bravissimo, è uno dei più bravi primi ministri che ci sono. Volete un nome dei socialisti? Il portoghese Antonio Costa, che è stato mandato a casa per un errore giudiziario. È bravissimo. Volete uno dire new? Ce ne so me. Volete uno che non ha partiti? Come si chiamava quello che ha detto Merlo prima? Non mi ricordo. Parliamo di politica estera, rimaniamo con Barbara Masuli. Parliamo di un affaccio sulla politica americana, dove si giocano molte cose che interessano i europei. Barbara. La campagna elettorale si combatte anche a colpi di video che ironizzano sia su Joe Biden da una parte che su Donald Trump. Cominciamo con Joe Biden. Chiedo alla regia di mandare il video che lo riguarda e si gioca molto sulla questione età. Quindi si fa del sarcasmo su questo, si mostra la difficoltà del presidente nel parlare, la difficoltà nel salire una scala. Poi a un certo punto sul video compare una scritta se sopravvivrà fino al 2029. Poi nella seconda clip che si riferisce in particolare al discorso sullo Stato dell'Unione però del 2023, Biden viene sbeffeggiato. Vedete lui in primo piano, alle spalle c'è Kamala Harris. A un certo punto compare anche un naso di Pinocchio e poi Biden si trasforma in un improbabile animale. Infine c'è un altro video che gira sui social, a turno sostanzialmente un gruppo di repubblicani prende a calci e a pugni la figura, soltanto la figura, di Joe Biden e sembrano anche molto arrabbiati. Sono ovviamente... Paracondicio però per via facciamo vedere anche quelli contro Trump. E ce ne sono, ce ne sono. In particolare c'è una parodia che chiama in causa addirittura Hitler. Sostanzialmente si tratta di una immaginaria telefonata fra il dittatore nazista e Donald Trump. Anche in questo caso si gioca molto sull'età perché è vero che Joe Biden ha 81 anni ma Trump ne sta per compiere 78. Vediamo la clip. Oh, Hitler ha detto that. Non è vero che il rinno della partenina. C'è vero che non mi sento che sono circa 35 anni. C'è vero che ora mi sento più meglio. I russi dovessi avere una bianca di ferro di ordine. Siamo un guarda di Obama e un guarda di cose che ha fatto. Hai ancora dubbi e un ucciso? Io credo! Un ucciso 5 km di Stuttgart e vediamo che sia in un ucciso. Il russi si tratta di un ucciso di ferro 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 di ferro. Sì, hanno vinto una bianca di bianca sull'Oda. Ah, non sei! Un tema anagrafico, oggettivo. Bill Clinton è stato eletto 32 anni fa, era il 1992. Ebbene, Clinton è ancora più giovane dei due candidati alla presidenza degli Stati Uniti. È ancora più giovane oggi ed è stato eletto presidente degli Stati Uniti 32 anni fa. Mi spiego? Dopodiché, questo tema della gerontocrazia in America è un dannatissimo problema perché al netto dei video, anche simpatici, pone una questione complessiva su come portare i giovani a votare. Oggi il fenomeno americano è Taylor Swift, che è la grande rock star, che sta facendo dei numeri straordinari e che è, peraltro, secondo alcuni, la grande speranza dei democratici perché come ha fatto l'endorsement per Biden nel 2020 potrebbe rifarlo adesso. Secondo punto, abbiamo visto dei video simpatici. Ci sono dei deepfake video che sono impressionanti. Nel 2024 si vota in 4 miliardi, o meglio, votano più di 4 miliardi di persone. Hanno diritto di voto più di 4 miliardi di persone. È la prima volta nella storia del mondo che in un anno vota così tanta gente. In Indonesia le elezioni sono state giocate anche sui deepfake video. In Pakistan l'intelligenza artificiale ha giocato un ruolo e oggi ci sono delle immagini di Trump con degli elettori afroamericani che non sono vere, ma sono delle fake news rilanciate dall'intelligenza artificiale. Terzo e ultimo punto, penso che l'Europa farebbe bene a darsi comunque una smossa sulla politica di difesa e la politica diplomatica perché a maggior ragione se vince Trump credo che sia profondamente in discussione l'idea stessa della Nato. Trump l'ha detto alla sua maniera, con toni al limite del provocatorio, anzi oltre il provocatorio. Trump dice che se fossi presidente e un paese della Nato decidesse di non sostenere le spese del 2% sulle spese militari, io incoraggerei la Russia a invaderli. Fuori di testa dal punto di vista della comunicazione. Ma guardate che questo problema esiste e a me colpisce che ci sia gente come Giuseppe Conte. Giuseppe Conte lo dico con il rispetto che si deve a chi non la pensa come noi, ma come me. Giuseppe Conte dal punto di vista della politica estera è una banderuola, va dove lo porta al vento. È stato con Salvini sovranista, con Zingaretti europeista. È stato per il decreto Salvini sull'immigrazione, perché poi adesso la gente se lo dimentica, ma i 5 Stelle avevano la stessa posizione di Salvini sull'immigrazione. Oggi continuare a dire che lui non sceglie tra Macron e Le Pen e non sceglie tra Biden e Trump per la dimostrazione che vuole stare solo con chi vince. Facile così, eh? Grazie, senatore Renzi, grazie ai nostri ospiti. Rimanete con noi. Fra poco parleremo di guerra in Ucraina con il prefetto per le comunicazioni, Paolo Ruffini. A fra poco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!